Please approach SCP-173 for testing Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo retro gaming di Sparrow Retail Rispetto a oggi mi sono un pochettino calmato, ma anche se comunque non sono proprio intenzionato a portare in questo gioco Perché veramente mi ha fatto troppo sclerare oggi Io manco so se mi sentite perché ho letteralmente quasi distrutto anche le cuffie col microfono, pensate bene Allora, adesso, comunque dicevo, adesso faccio una cosa Io fallirò di proposito così cominciamo da capo perché Se solo fallissi di proposito però Dai, cavolo Ok Perché secondo me per passarla da dovevo non meno avere Andatevi un attimo, sto scendendo e rientrando Che è successo? Ok raga, ho combinato un casino, sono uscito dettamente dal gioco Ma che cavolo Perfetto Allora Dobbiamo essere più veloci possibile Ecco, già abbiamo, già Significato è fallito così Vabbè E io vorrei fallire però Ok, perfetto Allora, noi per passare Dovremmo avere almeno Non dico 30 secondi Ma anche di più perché Non ce la faccio Non ce la faccio se no Il problema è che Dobbiamo essere velocissimi E non sbagliare nulla Ecco Il problema sono proprio queste cazzo di palle Ok A ogni punto mi sa che devo salvare Perché è l'unica soluzione Il problema è che dobbiamo fare Sta cavolo di cosa Almeno due volte Ma io qui devo salvare Perché ovviamente abbiamo passato la prima parte Ecco Mi sa che dobbiamo buttarci a sinistra In qualche modo Oppure saltare E che cazzo Però mi blocca l'altra Cioè io non posso sbagliare completamente Perché mi rallenterebbero Ok, perfetto Allora io qui più veloci di come sono stato Non posso fare Cioè dico Se non ci riesco è impossibile sta cosa Veramente Cazzo Forse era meglio che salvavo Forse era meglio che salvavo E vabbè E vabbè Quanto tempo abbiamo Ma è possibile che ho solamente 24 secondi Ma siamo seri Ma è assurda sta cosa raga Cioè sta cosa è impossibile Che abbia così poco tempo Cioè è impossibile Io quella Il problema è che questa cazzo di curva Non me la fa allenta Io se provo ad andare più veloce di qua Risco di cadere E che cazzo però Cade sempre lì Niente raga Non ce la faccio è impossibile L'unica soluzione è una specie Una sorta di scorciatore Che io forse Avevo visto prima Però dobbiamo Non era di qua cavolo Cioè veramente Manca pochissimo Vaffanculo Questa parte è un problema Non riesco a passare Questo cazzo di punto ogni volta Niente Non ce la faccio Non ce la faccio Cioè io dico Più veloce di come vado Come cazzo devo fare Ecco Ti pareva Sempre lì Sempre lì Il problema Mezz'ora per abbassarsi Ma che cazzo però Cioè se non mi rallentano Quelle cose Mi rallentano lì Veramente Non ce la faccio Non ce la faccio Non ce la faccio Oh Finalmente Cazzo Allora qui salvo Ce l'abbiamo fatta Non so come Ma ce l'abbiamo fatta Se pensate che ora Ecco ti pareva Dicevo se pensate che ora È più facile No è peggio Perché se avete visto Nel percorso Adesso Io devo fare Il percorso Quello che c'è a sinistra Fermati Perché io qua ci muoio Allora Meno male che l'ho salvato Perfetto Mio dio Non capisco più niente E qua Sto salvando Il problema è che Che ti pareva Ma poi non c'è Non c'è il coso alzato Perché è sbattuto Ok Ce la fa Non ci credo Un'altra cazzo di palla C'è qua No Vabbè Ok Ok io qui salvo Perché abbiamo passato Quella parte Il problema è che non so Se con il tempo Che abbiamo Riesco a farcela Perché Sì vabbè Qua ciao No Stavo per salvare Cazzo E qua Ne sto beccando Almeno quattro Di questi muri così Eh ma È impossibile Cazzo Non mi fanno passare Qua Aspetta Ma siamo nel percorso di prima No Nel percorso di prima Quindi in teoria Siamo in vantaggio Col tempo Per ora Allora in teoria Siamo in vantaggio Col tempo Non devo sbagliare Quel cazzo di punto finale Ed è cavolo Se riescono ad andare perfetto Ce la posso fare Eh ma perfetto Questi cazzo di cose Si devono abbassare Però Non si abbassano Non si abbassano Cazzo L'ho presa Mi sa di no Penso di non l'ho presa Cazzo Forse scombassa All'ultimo secondo No Vaffanculo Ma scompare All'ultimo Si ma Se quei cazzo di cose Non si abbassano Io non ci posso fare Niente Ma vaffanculo Dai Cazzo Niente No Ce la devo fare C'è il tempo Mi basta Cazzo Il problema È il passaggio È il passaggio Che mi bloccano Queste cazzo di cose Niente Non mi fanno passare Non mi fanno passare Perché si è abbassata prima Ma ora L'ho presa L'ho presa stavolta Ok Alleluia Ce l'ho fatta Finalmente Ma sei Buggato E se Era un poco Buggato Ok Io qua salvo Perché dopo quello Che ho passato Veramente Mi dico solo Che comunque In questa zona Abbiamo finito Adesso Ce ne possiamo Anche andare E allora Andiamo da lui Perché Quanto pare Dobbiamo Dobbiamo Usare Un teletrasporto Dove Dobbiamo andare dove Aspettare un attimo L'attore dell'anziano Ora non lo so se è questo Il posto che dobbiamo andare Perché Dovemo andare praticamente Dove c'era quel mare Se vi ricordate Abbiamo sfondato In qualche livello Precedente Una sorta di Ma dove siamo Ma siamo sempre qua Ma che cazzo Ma dove cazzo Mi ha portato Ma mi sa che Ho sbagliato qualcosa Ah ok Aspetta un attimo Ecco Ho sbagliato io Ecco perché Penso che rovina costiera Ho sbagliato Vabbè La fortuna Il costo Non è troppo elevato Di questa cosa Dovrei Messo quello giusto Almeno spero Vediamo Sì Sì Ci ha azzeccato Perfetto Adesso Diciamo che per oggi Stiamo per fermarci Per fermarci Da qua Perfetto Perché La guida L'ho guardata Fino a qua Però Vabbè Possiamo fare Una piccola parte Di qua E poi concludere Perché Non so Da qui in poi Cosa ci aspetta Siamo quasi arrivati Non dovrebbe mancare Non dovrebbe mancare molto Dai Cavolo Quanto manca Rovine Rovine Subacque Sì Siamo quasi arrivati Sì Mi sa che lascia la fine Ecco Qua c'è la fine Allora Finalmente Siamo arrivati Eh maledetto Continuano a darci Sti poteri Anche se non li uso Stavolta Non mi faccio pregare Bello mio Ah Qua mi ricordo Io E purtroppo Adesso Dovevo notare Non è il bug E non ne capisco Nulla Il problema È che Questi Bug Non so Se potrò Mai risolverlo Non ne capisco Nulla Diciamo che Fare Questa parte Sarà davvero Complicato La prossima Volta Perché Il problema È che Con questo bug Non è tanto Facile Qua giocare Non è Oddio Ma là c'è un nemico Mi pare Mi pare Che non c'è più Nulla Qua c'è un'altra Uscita Mi pare Non sbaglio Eh sì Però di qua E al momento Ci servono Altre chiavi Però Ok Per oggi Ci fermiamo Qua Perché Non so Dove dobbiamo andare Ora Sinceramente Seguo la guida Vediamo Se andava Da questa parte O da un'altra parte Ovviamente Va bene Se il video è piaciuto Come sempre Vi lascia un bel mi piace Per questo video è tutto E noi ci vediamo Alla prossima Ciao